Buonasera e benvenuti a Intorno alle 9. Questa sera ci occupiamo di solidarietà e di un progetto di cooperazione internazionale portato avanti dalla Caritas in Etiopia, paese del corno d'Africa con una storia legata alla colonia italiana, paese molto povero e molto popoloso dove Caritas, compresa la sezione di Prato da alcuni anni, porta avanti i progetti per aiutare la popolazione locale. Abbiamo ospiti qui con noi due giovani, due ragazzi pratesi che hanno fatto un'esperienza di viaggio e di vita in Etiopia la scorsa estate, Asia De Luca, buonasera, e Paolo Martinenghi. Buonasera e con loro affronteremo proprio questa esperienza in due villaggi, in due realtà diverse dell'Etiopia. Innanzitutto come è nata questa esperienza e come avete deciso di trascorrere dieci giorni della vostra estate in Etiopia? Cominciamo da Paolo. Sì, allora, diciamo per me è stata proprio un bisogno, cioè una necessità a un certo punto. Io sto benissimo a casa sul mio divano, però ho sentito già da qualche tempo proprio l'esigenza di fare qualcosa, di rimboccarmi le maniche e provare a dare un aiuto in alcune realtà che sono molto disagiate. Appena Giulio, che è un volontario della Caritas, no in realtà lui lavora proprio alla Caritas, mi ha contattato, mi ha proposto il progetto, io ho subito accettato, sono stato molto contento di accettare. Asia, iniziamo a vedere già alcune immagini che avete girato e riportato dall'Etiopia. Questa è una scuola? Sì, questa è la scuola della città di Gondar, nel nord dell'Etiopia, dove vanno ogni giorno circa dai 250 ai 300 bambini sfollati a causa delle guerre interne fra popolazioni ed etnie. E, diciamo, in questa città le suore che operano lì nella loro missione cercano ogni giorno di offrire loro dei pasti, quindi colazione, pranzo e anche un ciotolino, ecco, dove portare a casa qualcosa per la cena. E un po' di scuola, qualche ora di scuola alla mattina e anche un po' di ore di svago e di animazione organizzata durante il pomeriggio, ecco. Le suore, ricordiamo, sono le suore della congregazione Figlie di Sant'Anna che proprio in Etiopia portano avanti tutta una serie di attività, a cominciare dall'istruzione con l'asilo, c'è un dispensario medico per portare aiuto da un punto di vista sanitario. Ci sono anche delle adozioni a distanza che dall'Italia vengono portate avanti per aiutare economicamente le famiglie etiopi. Diceva Asia che avete visitato questa realtà, ne avete visitato anche un'altra all'interno dell'Etiopia, molto povera, avete visitato un villaggio? Sì, abbiamo visitato un villaggio nel sud dell'Etiopia, nella regione del Bolaita, che è una delle regioni più povere dell'Etiopia, che è il villaggio di Moconissa, ed è un villaggio di contadini, fondamentalmente di persone che coltivano la terra e provano un po' ad arrangiarsi. Naturalmente lì la realtà è completamente diversa da quella di Gondar del nord, ed è appunto molto povera. Lì ancora oggi ci sono epidemie, parlando con le suore, fino a marzo lì c'è stata un'epidemia di malaria, e non solo, insomma c'è anche povertà, difficoltà dell'arrivare a fine mese, quindi manca il cibo, c'è poca acqua, c'è un solo pozzo per tutto il villaggio, e sì, quindi sicuramente è una realtà molto molto difficile, molto dura. Condizioni di vita difficili, però come abbiamo visto anche nelle immagini, c'è una certa solarità e gioia anche nelle popolazioni locali, abbiamo visto i bambini danzare, era quello forse un rituale di accoglienza nei vostri confronti? Sì, diciamo di sì, che quando siamo arrivate in tutte e due le realtà, siamo stati accolti calorosamente, sia dalle suore, siamo stati trattati come persone di famiglia, ma anche dalla popolazione, per cui si sono organizzati per farci arrivare in mezzo a canti e danze, e dopodiché per esempio ci hanno portato a fare il giro del villaggio nel sud, dove siamo stati commossi dall'accoglienza delle persone del posto, per cui magari ci potevamo immaginare che in una cosa del genere i bambini ci sarebbero subito venuti dietro, sarebbero venuti a cercare di giocare, di parlare con noi, e la cosa che ci ha colpito molto è che questo è successo, chiaramente avevamo una spilza di bambini dietro infinita che ci seguiva, ma poi è capitato che anche gli adulti ci venissero a cercare, magari ci vedevano passare, uscivano fuori dalle loro case, anche lontane, insomma, si sforzavano per venire da noi a stringerci la mano e a salutarci. Paolo, poi avete cercato anche di interagire con questi bambini, parlando in lingua inglese e facendo anche delle lezioni in inglese. Sì, diciamo, le sorelli ci hanno dato la possibilità di fare delle piccole lezioni in inglese, poche ore, però è stato un momento molto bello, anche perché al di là dell'inglese era bello provare a comunicare con questi bambini, ed era molto facile, proprio perché loro sono molto molto aperti, ci hanno accolto nel loro mondo, ci hanno da subito fatto sentire parte della loro comunità. Sì, noi abbiamo provato un po' a fare delle piccole lezioni in queste classi molto molto grandi, classi di 40-50 ragazzi ciascuna, e sì, è stata sicuramente un'esperienza intensa. Parlavamo prima delle suore, della congregazione delle figlie di Sant'Anna, con quale spirito portano avanti il loro servizio e la loro missione in Etiopia? Allora, le figlie di Sant'Anna nascono in Italia, in realtà poi si sviluppano da subito come suore missionarie, e troviamo le loro missioni in tutto il mondo. Abbiamo ammirato molto la forza delle suore che ci hanno accompagnato in questo viaggio, e molte volte le abbiamo definite veramente delle forze della natura, e pensare che noi stiamo lì per dieci giorni e loro per tutta la vita sono lì a disposizione delle persone più bisognose a cercare di aiutare chi li sta vicino, ma anche magari, ci è stato raccontato degli episodi di persone che magari con la loro legione non c'entrano nulla, ma comunque sia in questo spirito di accoglienza e di dedizione a chi ne ha più bisogno, ecco, la loro vita è tutta per l'altro. Ecco, parlavamo delle varie religioni presenti in Etiopia, avete potuto partecipare anche ad una celebrazione, Paolo? Sì, il nostro secondo giorno, il secondo terzo giorno, era domenica, e abbiamo partecipato alla messa, lì Amoconissa, che è stato un momento molto molto bello, una messa molto lunga, perché lì dura due ore, mi sembra, e nella prima parte per gli abitanti c'è anche il catechismo che si svolge prima della messa, ed è stato molto bello, perché è una messa, è un'unica messa che loro fanno, ed è una messa che accoglie tutta la comunità, quindi noi abbiamo partecipato, ma come noi hanno partecipato tutti gli abitanti del villaggio e anche di alcune zone limitrofe. Ed è bello perché è molto partecipata, molto vissuta, con canti, con attenzione, proprio con trasporto. È stata un'esperienza molto molto forte e molto molto bella, anche se ovviamente non capivamo una parola, però insomma, il senso era chiaro. Parlavamo delle necessità primarie che ci sono in questi villaggi, il cibo spesso, ma poi anche l'acqua, ne parlavamo prima. Questi progetti servono anche per portare risorse, per migliorare le infrastrutture dei villaggi, delle comunità locali, Asia. Sì, diciamo che la Caritas opera per più anni in questa realtà, cerca appunto di capire quali sono i bisogni, parlando direttamente con le persone che se ne occupano, quindi in questo caso con le suore che hanno le missioni nei vari posti. Per esempio, durante questi anni è stato portato avanti l'aiuto all'asilo e al dispensario di cure mediche, che si trovano nel sud a Moconissa, e alla campagna di adozione a distanza, che in realtà è molto attiva. Molte persone di Prato hanno adottato un bambino a distanza a Moconissa e durante questo viaggio, per esempio, alcuni di noi hanno avuto la possibilità di conoscere il bambino che è stato adottato a distanza da loro. L'adozione a distanza è un progetto molto importante, per cui le suore scelgono, sentono le varie famiglie, capiscono chi ha più bisogno, e quindi grazie all'adozione la persona riesce a offrire al bambino tutto quello di cui ha bisogno, dall'istruzione ai vestiti, cure mediche, insomma, per un anno, per l'anno insomma, per quanto dura l'adozione, il bambino ha tutto ciò di cui può avere bisogno. Ricordiamo che da Prato, dalla Diocesi di Prato, grazie alle raccolte per la Quaresima di Carità negli ultimi anni, proprio il ricavato di queste raccolte, è andato a finanziare i progetti solidali della Caritas in Etiopia. Per concludere, Paolo, che cosa consiglieresti ai giovani della tua età? Un'esperienza come questa, perché è consigliabile? Assolutamente consigliabile, secondo me, perché ti trasforma. Secondo me, a parte è bello cercare di essere d'aiuto e provare a dare una mano, ma oltre a questo lascia tanto, lascia tanto il segno. Io appena sono tornato a casa, il mio pensiero è stato quando tornare, insomma, quando poter tornare a dare una mano. E umanamente è un'esperienza che difficilmente uno può fare rimanendo in Italia, ecco, quindi è assolutamente consigliato un'esperienza del genere. Asia, anche tu sei pronta a rifare le valigie per un altro paese a cui dare aiuto? Decisamente, sì, sì, decisamente. È un'esperienza che davvero ti cambia e davvero fa cambiare il tuo modo di pensare riguardo a tante cose. Per esempio, ce lo siamo detti tutti, che noi pensavamo di partire con l'idea di, in qualche modo, cambiare il posto dove saremmo andati, no? Di dare effettivamente una mano e poi ci siamo resi conto che è molto più quello che è stato donato a noi rispetto a quello che siamo riusciti effettivamente a dare. Bene, io ringrazio i nostri ospiti per questa bellissima esperienza che ci hanno raccontato questa sera con la loro presenza e do l'appuntamento con la nuova puntata di Intorno alle 9, come sempre domani sera alle 21 su TV Prato. Grazie, buona serata. Grazie a tutti.